È possibile evitare il pignoramento del conto corrente se hai debiti arretrati con banche finanziarie ed Equitalia? Esiste un modo per mettersi a riparo dal pericolo di rimanere improvvisamente senza neanche i soldi per la spesa o le bollette? Se anche tu hai paura di subire il pignoramento del conto e vuoi sapere come proteggere te e i tuoi cari da tutte le conseguenze peggiori che possono capitare, allora guarda fino alla fine questo video. Prima però ti ricordo di iscriverti a questo canale e di attivare le notifiche cliccando sull'icona della campanella per restare sempre aggiornato quando usciranno i prossimi video che ti aiuteranno a liberarti dai debiti e ripartire pulito.